Ragazzi, oggi andiamo in un posto dove non abbiamo bisogno di presentazioni, la nostra bellissima Taormina. Taormina è un grande punto d'incontro della Sicilia, dove è una perla del Mediterraneo, dove ovviamente non devo essere lì a consigliarla di visitarla, ma è veramente meravigliosa, ha un flusso di gente, comunque parliamo di una città conosciuta in tutto il mondo. Ci vengo spesso, due volte all'anno, però è sempre un luogo sorprendente, ti regala sempre emozioni. E qui c'è Osimen, questo è Messi, Cristiano Ronaldo, vediamo se c'è Maradona. C'è Maradona e Freddi Mercoli, bellissima, anche Pelè. Famosissimo vicolo stretto. Andiamo a vedere l'Etna sul mare, che bello. Qui c'è anche un elicottero. Grazie ragazzi, molte persone si sono sempre qui, che hanno scritte lettere d'amore, poesie per la propria amata, guardando il mare e sentendo il profumo del mare. Ma immaginate che buono. E oggi, che fortuna che è il mare e l'Etna di guardare me. Ragazzi, scherzi a fatti, spero di avervi regalato qualche sorriso. Venite a visitare la Sicilia, che è veramente, veramente un posto incantibile. Ci sono tante altre cose da visitare. Grazie per essere stati con me. Vi abbraccio. Saluti da Ferdinando.